Buongiorno e benvenuti nel mio canale il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa carinissima pianta grassa conosciuta come cactus lunare. È una pianta veramente molto facile da realizzare, la si può usare in veramente tanti contesti, per esempio per creare una composizione, oppure come bomboniera, come segna posto, come oggetto per decorare una qualsiasi stanza della casa. Insomma, la potete usare veramente in molti contesti. Ho deciso di realizzarla con il cactus sopra rosso, ma esiste anche giallo, fucsia, arancione, quindi potete realizzarla come più vi piace. Allora, adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi. Un gomitolo di cotone numero 5 rosso. Un gomitolo di cotone numero 5 verde. Un uncinetto uno e mezzo, voglio una lavorazione abbastanza fitta, quindi vi consiglio sempre di provare se l'uncinetto che vi consiglio va bene anche per voi. Della tempera bianca, uno stuzzicadente, un ago, un marcapunto di ferro, un ambasetto di porcellana, questo l'ho preso su Amazon e è largo circa 8 cm ed alto circa 3. Per questo progetto preferisco utilizzare il codone. Adesso vi spiego come realizzare la base, quindi prendo il codone verde, prendo l'uncinetto uno e mezzo e cosa faccio? Realizzo un cerchio magico. Giro il filo in questo modo, in modo tale da ottenere una X, inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso sfilo il dito, chiudo un pochino il cerchio e cosa faccio? Al suo interno vado a lavorare un punto basso. Prima di andare avanti con la lavorazione prendo un marcapunto e segno questo punto, per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso, sempre all'interno del cerchio magico, vado a lavorare altri 5 punti bassi. Quindi in totale devo lavorare 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta lavorati i 6 punti bassi, chiudo il cerchio magico e vado avanti con la lavorazione. Adesso tolgo il marcapunto, metto questo filo in orizzontale in modo tale da nasconderlo, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Quindi, come potete vedere, non ho chiuso il giro con un punto bassissimo, ma ho iniziato subito a lavorare con un punto basso, in quanto procederò con una lavorazione a spirale. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto, per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro e poi cosa faccio? Rientro in questo stesso identico punto e vado a lavorare un secondo punto basso. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo e vado a lavorare un aumento, ossia due punti bassi nello stesso identico punto. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia due punti bassi nello stesso identico punto. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, ossia per ogni punto basso sottostante vado a lavorare un aumento. Quindi se all'inizio del giro avevo un totale di sei punti bassi, alla fine di questo giro dovrò avere un totale di dodici punti bassi. Ok, come potete vedere ho terminato il giro da un totale di dodici punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marca punto, entro qui dove ho il marca punto e lavoro un punto basso. Adesso prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi sempre che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso entro nel punto successivo e vado a lavorare un aumento, ossia due punti bassi nello stesso identico punto. Quindi un punto basso, entro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo e lavoro un aumento, ossia due punti bassi nello stesso punto. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, ossia alterno un punto basso e un aumento, un punto basso e un aumento. Ho iniziato con un punto basso e devo terminare con un aumento. Mi raccomando, alla fine di questo giro dovrò avere un totale di 18 punti bassi. Se non avete questo numero di punti, vuol dire che avete sbagliato qualcosa. Io adesso vado avanti, noi ci rivediamo quando ho terminato questo giro. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutto il giro da un totale di 18 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo questo marca punto, entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi sempre che qui inizia il mio nuovo giro. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Quindi in totale ho lavorato due punti bassi. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia due punti bassi nello stesso identico punto. Adesso ricomincio la sequenza. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Punto successivo e lavoro un aumento, ossia due punti bassi nello stesso identico punto. Anche questo giro è veramente molto semplice in quanto devo continuare a ripetere questa sequenza, ossia due punti bassi e un aumento, due punti bassi e un aumento, fino ad arrivare alla fine del giro. Noi ci rivediamo quando ho terminato il giro. Allora, come potete vedere, ho terminato questo giro da un totale di 24 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marca punto, entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Poi entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso. E semplicemente continuo a lavorare così punto su punto a punto basso fino ad arrivare ad un totale di 7 punti bassi. Quindi, come potete vedere, dal marca punto a qui ho lavorato un totale di 7 punti bassi. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso ricomincio la sequenza. Quindi vado a lavorare 7 punti bassi. Entro nel punto successivo, un punto basso, punto successivo, secondo punto basso, punto successivo, terzo punto basso. E continuo così fino ad arrivare ad un totale di 7 punti bassi. Una volta lavorati i 7 punti bassi, entro nel punto successivo e lavoro un aumento. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, ossia lavoro 7 punti bassi e un aumento. Noi ci rivediamo alla fine di questo giro. Allora, come potete vedere, ho terminato anche questo giro da un totale di 27 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marca punto, entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso. Prendo il marca punto e segno questo punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. E semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad arrivare ad un totale di 8 punti bassi. Quindi un punto basso in più rispetto al giro precedente. Poi, una volta lavorati gli 8 punti bassi, cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Una volta terminato l'aumento ricomincio con la stessa sequenza, ossia 8 punti bassi e un aumento. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo, secondo punto basso e continuo così fino ad arrivare ad un totale di 8 punti bassi. Subito dopo lavoro un aumento e poi ricomincio 8 punti bassi e un aumento. Io adesso vado avanti e noi ci rivediamo alla fine di questo giro. Devo avere un totale di 30 punti bassi. Allora, come potete vedere ho terminato di lavorare anche questo giro e do un totale di 30 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marca punto, entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso. Prendo il marca punto e segno questo punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso, punto successivo e lavoro un terzo punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 9 punti bassi. Quindi sempre un punto in più rispetto al giro precedente. quindi una volta lavorati i 9 punti bassi cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. adesso semplicemente continuo a lavorare ripetendo sempre questa sequenza ossia 9 punti bassi e un aumento 9 punti bassi e un aumento quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo secondo punto basso e semplicemente continuo a lavorare così fino ad ottenere un totale di 9 punti bassi poi aumento e ricomincio 9 punti bassi e aumento noi ci rivediamo alla fine di questo giro e mi raccomando dovete avere un totale di 33 punti bassi allora come potete vedere ho terminato di lavorare anche questo giro da un totale di 33 punti bassi adesso cosa faccio? tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso poi prendo il marca punto e segno questo punto adesso entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso punto successivo e lavoro un terzo punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 10 punti bassi sempre un punto basso in più rispetto al giro precedente quindi dal marca punto a qui ho lavorato un totale di 10 punti bassi adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro ossia 10 punti bassi e un aumento quindi cosa faccio? entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo secondo punto basso e semplicemente continuo a lavorare così fino ad ottenere un totale di 10 punti bassi subito dopo lavoro un aumento e poi ricomincio 10 punti bassi e un aumento io adesso vado avanti a lavorare questo giro e noi ci rivediamo quando ho terminato il tutto mi raccomando alla fine di questo giro dovete avere un totale di 36 punti bassi come potete vedere ho terminato di lavorare anche questo giro adesso ho un totale di 36 punti bassi cosa faccio? tolgo il marca punto entro qui dove ho il marca punto e lavoro un punto basso poi prendo un marca punto e segno questo punto adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso quindi sto lavorando un aumento adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo e lavoro un punto basso e continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino a ottenere un totale di 10 punti bassi quindi una volta lavorati 10 punti bassi cosa faccio? entro nel punto successivo e lavoro e lavoro un aumento questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro ossia un aumento 10 punti bassi e un aumento adesso vi faccio vedere un'altra volta quindi la sequenza quindi entro nel punto successivo e lavoro un aumento adesso lavoro 10 punti bassi 1 punto successivo 2 punto successivo 3 punto successivo 4 punto successivo 5 punto successivo 6 punto successivo 7 punto successivo 8 punto successivo 9 punto successivo 10 punto basso adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento quindi adesso termino di lavorare questo giro ripetendo sempre questa sequenza aumento 10 punti bassi e aumento io adesso lavoro il tutto e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare mi raccomando alla fine del giro devo avere un totale di 42 punti bassi allora come potete vedere ho terminato anche questo giro da un totale di 42 punti bassi adesso tolgo il marca punto entro qui dove ho il marca punto e lavoro un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi sempre che qui inizia il mio giro adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso una volta terminato il giro ricomincio a lavorare sempre un altro giro di punto su punto a punto basso e continuo così fino a lavorare un totale di 11 giri di punto su punto a punto basso devo sempre avere un totale di 42 punti bassi ho deciso di lavorare 11 giri di punto su punto perché non voglio rendere la piantina troppo alta ma se voi la volete più alta o più bassa potete aumentare o diminuire il numero di giri di punto su punto io adesso vado a lavorare questi 11 giri e noi ci rivediamo quando ho terminato il tutto allora come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione ho lavorato un totale di 11 giri di punto su punto a punto basso e ho ottenuto un'altezza totale di circa 6 cm se volete come vi stavo dicendo prima un'altezza più grande vi basterà aumentare il giro di punti su punti adesso cosa faccio tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto bassissimo cadenella di sicurezza e taglio il filo adesso sfilo l'uncinetto tiro bene il filo e questa è la parte di sotto ancora non è terminata ma la andrò a terminare dopo quando monto il tutto quindi adesso cosa faccio con l'aiuto dell'uncinetto vado a nascondere questo filo semplicemente entro una volta dall'interno una volta dall'esterno del lavoro e faccio passare il filo non mi interessa se non si vede proprio benissimo perché tanto poi questa parte rappresenta la parte di appoggio della pianta e quindi non si vede quindi semplicemente nascondo il filo in questo modo e una volta fatto passare per alcuni punti taglio la parte in eccesso e la parte finale è terminata allora adesso metto da parte il sotto lo riprenderò dopo e adesso vi spiego come realizzare il cactus colorato prendo il filo rosso prendo sempre l'uncinetto uno e mezzo e realizzo un anello magico una volta bloccato una volta bloccato l'anello cosa faccio entro al suo interno e lavoro un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro adesso entro sempre nel cerchio magico e vado a lavorare altri sei punti bassi quindi in totale devo lavorare sette punti bassi una volta lavorati i sette punti bassi chiudo il cerchio magico quindi tiro il filo iniziale il più possibile ed ecco il risultato il primo giro è terminato adesso metto questo filo iniziale in orizzontale in modo tale da nasconderlo mano a mano nella lavorazione e proseguendo con una lavorazione a spirale vado a lavorare il secondo giro quindi tolgo il marca punto entro qui dove avevo messo il marca punto e lavoro un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro poi rientro sempre in questo punto e lavoro un secondo punto basso in questo modo ho lavorato un aumento adesso entro nel punto successivo lavoro un nuovo aumento ossia due punti bassi nello stesso punto punto entro nel punto successivo e lavoro un nuovo aumento ossia due punti bassi nello stesso punto e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro ossia per ogni punto del giro precedente lavoro un aumento quindi se ad inizio giro avevo un totale di 7 punti bassi alla fine di questo giro dovrò avere un totale di 14 punti bassi noi ci rivediamo al termine del giro allora come potete vedere ho terminato il giro e do un totale di 14 punti bassi adesso cosa faccio tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso poi prendo il marca punto e segno questo punto adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento ossia due punti bassi nello stesso punto adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo lavoro un aumento ossia due punti bassi nello stesso punto semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro ossia devo ripetere sempre la stessa sequenza un punto basso un aumento un punto basso un aumento ho iniziato con un punto basso devo terminare con un aumento noi ci rivediamo qui per vedere come terminare come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione del giro e sono arrivata alla fine adesso ho un totale di 21 punti bassi quindi cosa faccio tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto entro nel punto successivo e lavoro un punto basso quindi in totale ho lavorato due punti bassi entro nel punto successivo e lavoro un aumento ossia due punti bassi nello stesso punto adesso ricomincio la sequenza quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo lavoro un secondo punto basso punto successivo lavoro un aumento e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro ossia ripeto la sequenza due punti bassi un aumento due punti bassi un aumento ho iniziato con due punti bassi devo terminare con un aumento e alla fine di questo giro devo avere un totale di 28 punti bassi noi ci rivediamo qui per vedere come terminare allora come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione adesso ho un totale di 28 punti bassi cosa faccio? tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso in totale ho lavorato uno, due, tre punti bassi un punto in più rispetto al giro precedente adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento adesso ricomincio la sequenza quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo lavoro un secondo punto basso punto successivo lavoro un terzo punto basso punto successivo lavoro un aumento semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro quindi ripeto sempre la stessa sequenza ossia tre punti bassi un aumento tre punti bassi un aumento come al solito ho iniziato con tre punti bassi devo terminare con un aumento io adesso vado avanti con il giro e noi ci rivediamo quando l'ho terminato mi raccomando a fine giro devo avere un totale di 35 punti bassi allora come potete vedere ho terminato anche questo giro adesso vi spiego come lavorare l'ultimo giro quindi tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto entro nel punto successivo entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso in totale ho lavorato 4 punti bassi sempre un punto in più rispetto al giro precedente adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento ossia 2 punti bassi nello stesso punto adesso ricomincio la sequenza quindi lavoro 4 punti bassi quindi punto successivo un punto basso punto successivo secondo punto basso punto successivo terzo punto basso punto successivo quarto punto basso punto successivo aumento e semplicemente ripeto questa sequenza per tutto il resto del giro mi raccomando 4 punti bassi un aumento 4 punti bassi un aumento e alla fine di questo giro devo avere un totale di 42 punti bassi io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui per vedere come terminare il tutto potete vedere ho terminato anche questo giro e adesso vi spiego come cucire il pedalo allora questa è la dritta del lavoro noi andremo a cucire in questo modo ossia piego a metà il lavoro e ho il rovescio del lavoro davanti a me quindi la parte che poi si vedrà è proprio il rovescio del lavoro e non il dritto allora una volta detto questo vi faccio vedere come cucire il tutto quindi cosa faccio? lavoro una catenella poi salto la catenella appena lavorata entro qui nell'ultimo punto basso del giro appena lavorato così quindi ho 3 asoline sull'uncinetto adesso tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto ed ho un totale di 5 asoline sull'uncinetto e adesso piego in questo modo il lavoro e chiudo il tutto con un punto basso ed ecco qui il primo punto della cucitura adesso entro nel punto successivo in questo modo quindi il punto lo prendo sempre intero mi raccomando devo avere 2 asoline sull'uncinetto poi prendo il corrispondente punto dall'altro lato e chiudo il tutto con un punto basso adesso entro nel punto successivo in questo modo prendo il corrispondente punto dall'altro lato e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a cucire così tutto il resto dello spicchio quindi entro da un lato entro nel corrispondente punto dall'altro lato e lavoro un punto basso quindi come potete vedere cucire questo spicchio pedalo come lo vogliamo chiamare è veramente molto semplice basta soltanto prendere i punti da entrambe le parti e lavorare un punto basso io adesso vado avanti fino ad arrivare all'incirca quasi alla fine del pedalo e poi vi faccio vedere cosa fare prima di chiuderlo allora come potete vedere ho quasi terminato di cucire tutto il pedalo adesso cosa faccio sfilo un attimo l'uncinetto allargo bene il punto e vado a riempire con un pochino di cotone il mio pedalo come vi ho già detto nell'occorrente preferisco usare il cotone questo idrofilo non so voi come lo chiamate in quanto rimane un pochino più duro rispetto all'ovatta e lo trovo perfetto per questo tipo di lavoro quindi vado ad inserire un pochino di cotone in modo tale da riempire il pedalo ma non renderlo troppo pieno quindi sì devo inserire un pochino di cotone per riempirlo ma non deve essere neanche troppo pieno il giusto quindi una volta riempito il pedalo cosa faccio? vado a rimettere l'uncinetto nella solina lasciata in sospeso e termino la cucitura sempre nello stesso modo quindi entro prima in un punto poi entro nel corrispondente punto dall'altro lato e lavoro un punto basso in questo modo mi raccomando fate attenzione a non prendere il cotone altrimenti poi il pedalo si vede brutto ok sono quasi arrivata alla fine della cucitura ho notato che in questa parte manca un pochino di ovatta quindi prima di terminare il tutto ne inserisco un pochino dove ne ho bisogno una volta inserita questa ovatta in più termino la cucitura sempre nello stesso modo allora come potete vedere sto lavorando gli ultimi due punti disponibili e questa è la cucitura come dritto del lavoro ho il rovescio e la cucitura è in rilievo e poi quando andrò ad unire tutti i punti vedrete che dà quell'effetto rigato del cactus adesso cosa faccio entro qui in questo ultimo spazio disponibile e vado a lavorare un ultimo punto basso adesso lavoro una catenella e taglio il filo non ne taglio tanto in quanto dopo lo vado a nascondere quindi è inutile sprecare del filo adesso sistemo bene l'ovatta piego qui al centro lo spicchio in modo tale da ottenere questa forma stondata e nello stesso identico modo vado a realizzare altri 6 pedali quindi in totale devo lavorare 7 pedali con poco filo lasciato poi vado a lavorare un ottavo spicchio in cui invece andrò a lasciare tanto filo che mi servirà per cucire i vari pedali tra loro io ce l'ho già pronto e adesso vi faccio vedere ecco qui vedete quanto filo ho lasciato in quanto poi come vi stavo dicendo mi servirà per cucire i vari pedali tra loro quindi noi ci rivediamo quando ho terminato di lavorare tutti i pedali mi raccomando devono essere 7 con il filo corto e 1 con il filo lungo quindi ci rivediamo tra un po' per vedere come cucire i vari pezzi tra loro allora come potete vedere qui ho il pedalo in cui ho lasciato tanto filo e qui ho gli altri 7 pedali con poco filo adesso prima di farvi vedere come cucire i vari pedali tra loro cosa faccio? vado a nascondere il filo di questi 7 pedali lasciati corti quindi cosa faccio? io semplicemente inserisco in un qualsiasi punto dello spicchio l'uncinetto e tiro il filo in questo modo poi entro in un qualsiasi punto più in avanti sempre con l'uncinetto e tiro il filo e lo lascio in questo modo non fa niente se il filo non è nascosto bene comunque rimane questa ondina in quanto noi andremo a cucire proprio da questa parte i vari spicchi quindi poi alla fine non si vedrà niente quindi nello stesso gentico modo andrò a nascondere il filo degli altri 7 pedali poi cosa faccio? prendo lo spicchio con il filo lungo inserisco l'acqua al suo interno e vado a cucire i vari spicchi cosa faccio? prendo uno dei spicchi con il filo nascosto chiamiamoli così lo posiziono nella stessa posizione di questo con il filo lungo e inserisco l'ago nel primo punto lavorato in questo modo e faccio passare il filo ecco qui adesso tiro bene il filo poi cosa faccio? prendo un altro spicchio lo posiziono sempre nello stesso lato quindi con la parte della cucitura rivolta verso l'esterno in questo modo e sempre inserisco l'ago nel primo punto basso della cucitura e faccio passare il filo e tiro bene il tutto così e semplicemente continuo ad unire così tutti gli altri pedali mi raccomando la parte della cucitura deve essere sempre rivolta tutta verso lo stesso lato ossia verso la parte esterna in questo modo poi inserisco l'ago sempre nel primo punto basso dello spicchio e faccio passare il filo e continuo così finché non unido tutti gli spicchi grazie 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 quindi mi raccomando dovete entrare sempre nel primo punto basso di ogni petalo non vi sbagliate grazie 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 ok una volta fatto passare il filo attraverso tutti gli 8 spicchi cosa faccio? sistemo bene gli spicchi in modo tale da dare la forma del cactus rientro all'interno del primo punto basso del primo spicchio e tiro bene il tutto in modo tale da chiudere in tondo i vari spicchi adesso una volta fatto questo faccio passare l'ago al centro dei vari spicchi e faccio passare il filo sotto in questo modo vi conviene sempre guardare bene le immagini in quanto parlano più chiaro di me allora adesso come potete vedere ho fatto passare il filo e ho questa situazione cosa faccio? faccio passare l'ago attraverso la parte centrale dello spicchio vedete proprio qui dove prima ho nascosto le varie codine e in questo modo vado ad unire tutti i vari spicchi tra di loro il mio consiglio è quello di cercare di inserire l'ago sempre alla stessa altezza per tutti i vari spicchi in questo modo vedete entro proprio al centro dello spicchio così quindi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti filo anche qui nell'ultimo pedalo disponibile cosa faccio? rientro nel primo pedalo quindi nel pedalo iniziale e faccio ripassare il filo in modo tale da chiudere completamente il cactus adesso controllo di aver sistemato bene tutti i fili e tutti i vari spicchi in questo modo e poi tiro bene il filo adesso vado a chiudere anche questa parte finale ripeto lo stesso passaggio iniziale ossia faccio passare l'acqua attraverso il primo punto basso di ogni spicchio e semplicemente poi tiro il filo proprio così poi se avete difficoltà a cucire in questo modo i vari spicchi potete anche incollarli tra loro con la colla a caldo però sinceramente io preferisco cucirli a mano in quanto il lavoro viene più rifinito e anche più duraduro nel tempo quindi una volta agganciato anche l'ultimo spicchio rientro sempre nel primo spicchio come ho fatto fino ad ora e poi semplicemente tiro il filo il più possibile proprio così e vedete in questo modo i vari spicchi si chiudono e posso andare a bloccare la cucitura quindi prima sistemo tutto in modo tale da avere il più possibile il cactus sistemato e poi una volta tirato il filo cosa faccio entro prima in uno spicchio e poi nello spicchio corrispondente semplicemente vado a bloccare così i vari punti quindi passo qualche volta attraverso tutti i vari spicchi e blocco bene la cucitura poi controllo sempre la forma del cactus e blocco gli spicchi anche in modo tale da ottenere proprio la forma da me desiderata quindi una volta fatto questo controllo bene la forma e una volta soddisfatta cosa faccio faccio passare l'ago attraverso il centro di questa cucitura ed esco dall'altro lato in modo tale da andare a rifinire anche l'altra parte quindi una volta fatto passare l'ago vedete questa parte rimane completamente chiusa ed è perfetta e adesso ripeto lo stesso identico passaggio anche da questo lato faccio sempre attenzione a sistemare bene tutti i vari spicchi e vado a bloccare il tutto anche qui sempre nello stesso identico modo quindi sono quindi una volta bloccato bene il tutto cosa faccio prendo la parte verde e vado ad assicurare il mio cactus colorato alla base quindi cosa faccio senza tagliare il filo inserisco l'ago qui al centro della base verde proprio dove ho fatto il cerchio magico e faccio passare l'ago così quindi adesso posiziono il cactus proprio al centro della base verde poi faccio attenzione a non schiacciare la punta in quanto non deve rimanere piatta ma deve rimanere bene in posa e poi sempre con l'aiuto del lago cosa faccio riesco vicino al punto in cui sono entrata e faccio passare il filo in modo tale da agganciarmi anche al cactus e andare a cucire il il cactus alla parte verde in questo modo così adesso posiziono sempre bene il cactus cosa faccio inserisco l'ago in uno spicchio accanto così faccio passare il filo poi entro nella parte verde faccio passare l'ago in modo tale da farlo riuscire dal lato opposto in questo modo adesso mi riaggancio ad un qualsiasi pedalo del cactus e faccio passare il filo adesso entro sempre nella parte verde e faccio uscire l'ago dall'altro lato poi mi riaggancio ad un qualsiasi pedalo del cactus rosso e faccio passare l'ago e semplicemente continuo a ripetere questo passaggio finché la parte colorata è ben fissata alla base verde quindi devo semplicemente continuare a cucire la parte verde alla base poi se volete potete sempre evitare questa cucitura e attaccare la parte colorata colorata alla base con la colla a caldo però come vi ho già detto anche prima io preferisco la cucitura a mano in quanto viene un lavoro più duraduro nel tempo e più pulito a mio parere grazie a tutti 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 cosa faccio? faccio riuscire l'ago nella parte interna della base verde in questo mondo e blocco la cucitura con un nodino Così Poi tiro bene il filo E come potete vedere Il cactus ben Cucito alla parte Verde E Adesso posso tagliare Il filo rosso In eccesso Ok Adesso una volta fatto Questo passaggio Non mi resta altro da fare Che andare a terminare Di formare bene la parte verde Quindi cosa faccio Posiziono in questo modo La base Quindi la lascio proprio come è venuta E metto le mani in questo modo E semplicemente Vado a premere al centro Devo formare una sorta di triangolo Quindi vedete Metto le due dita dietro E due dita davanti E premo Due dita dietro e due dita davanti E premo In modo tale da ottenere Questi tre lati Piegati Così Così Quindi Modello bene la base Questo è l'effetto Questo è l'effetto che dovete ottenere sotto Poi cosa faccio Prendo la colla a caldo Allargo leggermente La base E vado ad incollare Questa parte Che deve rimanere chiusa Quindi Metto poca colla a caldo Senza esagerare Così Poi Premo bene Il tutto E incollo Questa parte Adesso Con le mani Rimodello bene La base E vado ad incollare Anche gli altri due lati Che devono rimanere chiusi E la tecnica È sempre la stessa Quindi Allargo leggermente Questa parte Spruzzo Un pochino Di colla A caldo E Chiudo bene Il tutto In modo tale Da far incollare Questa parte Ok Una volta Terminato Questo passaggio Posso andare A posizionare La mia pianta Nel vasetto Quindi Metto da parte La pianta Prendo Sia il vasetto Che la spugna Per fiori E cosa faccio Posiziono Il vasetto In questo modo E Premo Leggermente In modo tale Da ottenere La sua forma Sulla spugna In questo modo Adesso Prendo un coltello E vado A tagliare La spugna Quindi Taglio Prima Un lato Arrivo Più o meno All'altezza Che mi serve La misuro Sempre Con Il vasetto Taglio L'altro Lato Sempre A questa Altezza Taglio Adesso Posso tagliare Completamente La spugna Quindi Una volta Rigavato Questo Quadrato Cosa faccio Vado A tagliare Lungo La forma Che ho ottenuto Dal vasetto Quindi Mi taglio Il cerchio Così Adesso Inserisco La spugna All'interno Del vasetto E vedo Se l'altezza Che ho calcolato Va bene O devo Levare Qualcosina Nel mio caso Vedete Fuoriesce Un pochino Quindi Vado A tagliare La parte In eccesso Anche Perché Poi Andrò A mettere Dei Sassetti Quindi Preferisco Lasciare Magari Mezzo Centimetro Più Bassa La spugna Rispetto Al vasetto Quindi Una volta Tagliata La parte In eccesso Rinserisco La spugna E La premo Bene Vedete Rimasto Quel Mezzo Centimetro Di Spazio Che poi Mi servirà Per andare Incollare I sassetti Quindi Una volta Fatto Questo Il mio Vasetto È pronto Cosa Faccio Prendo La pianta La posiziono Al centro E La premo Leggermente In modo Tale Da ottenere La sua Forma Sulla Spugna In questo Modo Vedete C'è Questa Forma A triangolo Adesso Ripasso Questa Forma Con La colla A caldo E Poi Semplicemente Vado A posizionare La pianta Sopra Questa Forma In modo Dale Da Bloccarla Sulla Spugna Ecco Qui Adesso Premo Bene Il Tutto Posiziono Bene La pianta Poi Poi Controllo Se la pianta Si è Attaccata Bene Prima Di Mettere I Sassi E Se Noto Che Qualche Lato Non Si è Incollato Bene Vado Mettere Un altro Pochino Di Colla Caldo Quindi Una volta Fatto Ciò Vedete Qui Non Si è Incollata Bene Quindi Ne Metto Un altro Pochino Una volta Fatto Ciò Cosa Faccio Vado A Riempire Le Parti Rimaste Vuote Con La Colla Caldo Così Poi Prendo Una Manciata Di Sassetti E Li Vado Ad Incollare Così Premo Bene Se Rimane Qualche Filo Fuori Non Vi Preoccupate In Quanto Una Volta Asciutta La Colla Li Potete Tranquillamente Togliere E Nello Stesso Identico Modo Vado A Riempire Anche Gli Altri Due Spazi Io Adesso Li Vado A Riempire Noi Ci Rivediamo Per Vedere L'ultimo Passaggio Allora Come Potete Vedere Ho Incollato I Sassetti E Questo È Risultato La Pianta Già Così Potrebbe Essere Pronta Però Manca Una Piccola Rifinitura Per Il Cactus Ossia Voglio Andare A Ricreare Quell' Effetto Delle spine Quindi Cosa Faccio Posiziono Il Vasetto Su Una Superficie Prendo La Tempera Bianca Prendo Uno Stuzzicadente E Vado A Ricreare Le spine Sul Cactus Quindi Cosa Faccio Semplicemente Inserisco L'ago All'interno Della Tempera Prendo Poco Colore In Questo Modo E Poi Semplicemente Vado A Creare Un Puntino Proprio Sulla Cucitura Quindi Sulla Parte Rilievo Poi Semplicemente Una volta Creato Il Puntino Scendo Di Qualche Punto E Vado a Creare Un Altro Puntino Lascio Un Pochino Di Spazio E Vado A Creare Un Altro Puntino E Continuo Così Fino A Terminare Tutto Il Pedalo Vedete In Questo Modo Sto Ricreando Quell'effetto Delle Spine Poi Una Volta Terminato Il Pedalo Ripeto Lo Stesso Passaggio Anche Sui Pedali A Fianco Quindi Posso Mantenere Sempre La Stessa Altezza O Magari Farli Ad Un Altezza Diversa Questo Poi Dipende Tutto Dal Vostro Gusto Poi Anche Le Piante Vere Non Sono Mai Tutte Uguali Quindi Potete Ricrearle Come Preferite E Semplicemente Continuo A Decorare Così Tutti Gli Altri Pedali Poi Vado A Realizzare Qualche Puntino Anche Nella Parte Superiore Quindi Sempre Con L'aiuto Dello Stuzzicadente Vado a Creare Qualche Punto Anche Qui Così Ecco Fatto In Questo Modo La Pianta È Proprio Rifinita Al 100% Ho Proprio Un Effetto Spina Che È Veramente Molto Simile Alla Realtà Noi Ci Rivediamo Quando Ho Terminato Di Decorarla Allora Come Potete Vedere Questo È Cactus Terminato Devo Dire Che Sono Veramente Soddisfatta In Quanto Secondo Me Rispecchia Molto La Pianta Reale È Veramente Molto Carina Molto Facile Da Realizzare Ci Vuole Soltanto Un Pochino Di Pazienza Per Le Varie Decorazioni Anche Per Unire Vari Bezzi E Adesso Vi Dico Anche Con Esattezza Quanto Misura La Controlarvi Se La Volete Più Grande O Magari Più Piccola La Trovo Veramente Un'idea Molto Carina Sia Come Bomboniera Come Segnaposto Come Oggettino Per Decorare Una Qualsiasi Parte Della Casa O Magari La Potete Inserire Anche All'interno Di Una Composizione Quindi Potete Proprio Sbizzarirvi La Mia Piantina Finale Misura Circa 11 Centimetri E Niente Spero Un Bel Like Mi Raccomando Se Non Siete Ancora Iscritti Al Mio Canale Iscrivetevi E Non Vi Dimenticate Di Attivare La Campanella Per Rimanere Sempre Aggiornati Spero Tanto Di Ricevere Qualche Foto Dei Vostri Progetti Attraverso I Canali Social Di Cui Vi Lascio Il Link In Descrizione Noi Ci Vediamo La Prossima Volta Con Un Nuovo Progetto Ciao Ciao